Qua siamo su un altro punto di Capanna Mara, oggi c'è anche un bel panorama che non c'è la foschia, qua sono i pedi giù per il lago di Cuomo. Come vedete è tornata la foschia davanti di qua, non si vede tanto qua. Salutate, ciao, saluto anch'io, almeno si sono spaventati tutti, Sofì dove sei? Vieni qua, Sofì vieni qua. Un cagnetto di 20 centimetri che ha corso per due ore di fila, ancora non è ancora stanca, dove stai andando giù per la vallata? Vieni sulle spine lì, c'è un lume, dove c'è Alex? Cosa? Cosa?